in pizzeria sediamo in sette in pizzeria siamo marianna antonio cesare diletta augusto maria ed io antonio mi chiede perché dici che per te la vita non è quella che appare perché se noi fossimo più evoluti qui in pizzeria non staremmo in sette ma al massimo in due o in tre marianna e antonio sarebbero fusi in una sola persona oltre ad altri che adesso non compaiono diletta cesare e augusto a loro volta sarebbero fusi in un'altra persona e maria e dio in un'altra perciò se noi fossimo più evoluti qui compariremmo in tre e non in sette